Grazie! Dovete farmi piangere? Dovete farmi piangere? Sì! Silenzio! Dai tuoi allievi e amici, augurone di buon compleanno! Auguri! Ci sono appagati gli occhiali, aspetta un momento! Lasciatela leggere! Grazie per il bellissimo anno trascorso, grazie per la tua simpatia, bravura, gentilezza, disponibilità ed entusiasmo nel proporci le serate divertenti e rilassanti in compagnia! Aspetta, piangere! Bacioni da tutti noi! Rosanna, Graziano, Maria, Paolo, Paola, Rita, Antonio, Decimo, Franca, tutti quanti! Grazie! 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 È stata una sorpresa fantastica! Non ci pensavo perché portavamo in un plato proprio... Brava! Grazie! 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 Poi, perché faccio sempre il tuo conto con Nadia, qualunque parte del mondo che possa trovarmi... Grazie! Grazie, grazie! Grazie! Vi saluto! Benvenuti! Egli la prima cosa! Aspetta! Un po' di fermerla! Parla vicino al microfono! Chiavetta? Dai! Così ora! Va-i-i! Da quando! Da febbraio! A con le cominciato quale le serate! Febbraio! eccola qua questo è un ricordo diciamo per le serate fatte insieme non è per i valori grazie a tutti grazie di cuore grazie a tutti 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 grazie a tutti